Mamma! Mamma è una canzone stupenda e per me ieri sera è stato un grande piacere e un grande onore ascoltarla interpretata dal tenore Pietro Ballo che è un amico dell'Antoniano, una grande emozione. Ecco adesso ascoltala Yuri. Io ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, pure se non ti usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la dignità e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei risolitori, sento la voce che ti manca, la nina lanna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere ai tuoi, mamma, solo perché la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non ti usano più, mamma. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la dignità e per la vita non ti lascio mai più, mamma, mai più. Grazie Pietro Ballo, grazie a te. Spero non scappare, perché io in questo momento sono troppo curiosa, adesso però non te la potrei fare in un altro momento. Io vorrei sapere che cosa hai provato a cantare questa canzone, la più famosa canzone di Beniamino Gilli, da qui, da Recanati, la sua città. Guarda, non ci sono parole, basterebbe mettere questo qui come mi batte il cuore. È un'emozione straordinaria cantare mamma proprio qui, davanti a Rina Gilli e ricordando il grande Beniamino. È un'emozione che Pietro Ballo è riuscito a trasmettere a tutti noi. Grazie a te. Grazie di cuore. Grazie a te per questa grande emozione. Ed eccolo qui con noi, Pietro Ballo, bravissimo, grande tenore. Eccezionale. Certo Pietro che ci vuole veramente un grande coraggio, oltre ad una emozione secondo me veramente incredibile, a cantare nella terra di Beniamino Gilli proprio la canzone che lui ha portato al successo, la canzone più famosa, cioè Mamma. È stata una grande gioia, una grande emozione, felicissimo di essere qui e a poter rappresentare quella che è la canzone più conosciuta, come diceva la nostra Arianna. Sono veramente, che dire, estasiato. E poi devo dire che mi reputo forse più fortunato di lui, perché lui non ha avuto l'occasione di cantare con i piccoli del coro dell'Antoniano di Bologna. Senti, hai avuto ieri sera un grandissimo riconoscimento, vero Arianna? Certo, un premio molto importante che la città di Recanati ha deciso di regalare a Pietro Ballo, quindi la medaglia d'oro della prima edizione del premio Beniamino Gilli. Ecco qua, ecco questo è il, la pergamena ufficiale, vuoi leggerla Arianna? Sì, l'associazione Beniamino Gilli di Recanati, con unanimità di consensi e sentita gratitudine, conferisce al tenore Pietro Ballo la medaglia d'oro della prima edizione del premio Beniamino Gilli. Oh ma voi!